Gentili telespettatori, buona giornata e così Marco Rizzo contro il politicamente corretto, quindi un'invettiva diciamo scorretta. Dice vogliono le minoranze imporci i loro gusti. E così sembra di sentir parlare realmente vannacci o un politico di centrodestra. Così l'intervento dell'ex leader comunista è il boom di visualizzazioni sul web. Dice va bene parliamo ma ho pochi minuti, sto andando a farmi raddrizzare la schiena, dice, con un metodo mezzierè, lo conoscete? Ecco dice non ho fatto acrobazie e che peso 110 chili. Marco Rizzo che compie 65 anni, sabato 12 ottobre, sembra proprio che lo faccia apposta perché adesso vi dirò quello che racconta. L'altro giorno intervenendo a un evento che si chiama l'Italia dei conservatori, l'ex parlamentare a un certo punto ha detto a me piace la bip, posso dirlo e non mi dovete rompere le scatole. E così la diretta su TikTok ha avuto all'istante un'impennata di ascolti, 20.000 like più di 2.000 commenti. Al 99% commenti positivi da parte sia di donne che uomini. e dice ma la sua seconda moglie non ha dato peso, Susanna poi è molto riservata, che molti scambiano per Stefania Rocca. Oggi una sola cosa la preoccupa, la preoccupano i conflitti internazionali, per il resto non ci sono problemi, come dire, lasciamo stare. A questo punto Marco Rizzo diciamo che era famoso o almeno soprannominato come un Don Giovanni, ecco, ma lui dice ma che sono un povero pensionato. Dice così, l'altro giorno io stavo ragionando di politica generale davanti a personalità del calibro di Gianfranco Fini, Luciano Violante, e non mi pare siano rimasti scandalizzati, dice l'attuale coordinatore nazionale di democrazia sovrana e popolare, che aggiunge ormai io ho chiuso col partito comunista. Solo il sovranismo popolare oggi può difendere le classi più deboli. Lenin starebbe con noi. E aggiunge quella cosa non l'ho detta per compiacermene, stavo solo criticando quest'epoca insopportabile del politicamente corretto, per cui ormai non c'è un film o una pubblicità in cui non ci siano rappresentate tutte le minoranze. Lui l'ha detto in un altro modo, ma io devo raccontarvela in un altro modo, perché lui può parlare liberamente contro il politicamente corretto, invece io no. Io per continuare a parlarvi devo rispettare delle regole, o così o così, devo rispettare delle regole, quindi non vi posso riferire esattamente le parole che ha detto Marco Rizzo, ma a buon intenditor poche parole, dice oggi in un film o in una pubblicità ci deve essere sempre uno così, uno così, uno così, uno così, uno con i capelli così, uno con i capelli così, uno con i capelli così, uno di quel colore, di quell'altro, di quell'altro ancora. Allora, io ho notato, vi faccio un esempio, un esempio che vi posso fare, ho visto diverse pubblicità e in tutte queste pubblicità appaiono tante persone e c'è sempre una di queste persone che ha dei capelli così riccioli, ricci, così, una cosa enorme così riccia, spesso sono donne e l'ho visto in uno, due, tre, quattro, cinque, sei pubblicità, tra tutte le varie persone, come dice Rizzo, ci deve essere uno così, uno così, uno così, uno così, c'è anche, viene sempre rappresentato, una ragazza con i capelli ricci, così. E io mi sono chiesto, ah, quindi starebbe rappresentando una minoranza, la minoranza di quelli con i capelli ricci, voluminosi, grossi, così? Oppure, che caspita vuol dire? Non lo so, forse lo so, forse lo so, lo so, non lo sapessi, ma lo so. Ma andiamo avanti. Quindi Marco Rizzo dice, ogni pubblicità, ogni film, una telenovela, una sitcomedy, qualsiasi cosa, ci deve essere uno per tipo. E poi dice, oggi un film, come Amici miei di Monnicelli, non si potrebbe fare. Quando diceva, Indovenosa sorella, diceva il, il conto e mascetti, eccomi pronto, grazie, sai le proteste, i distinguo, oggi i gusti che hanno le persone di una minoranza finiscono per costituire un obbligo per la maggioranza. Ma i desideri non possono trasformarsi in diritti. che ne è della famiglia, dice Marco Rizzo. Friedrich Engel diceva che la famiglia è il primo nucleo della società borghese e io aggiungo che senza famiglia, senza le pensioni dei nonni e delle vecchie zie, oggi in Italia, avremmo 11 milioni di poveri in più. La famiglia è un presidio dello Stato sociale e che fa Elish Lai invece di occuparsene si mette a ballare sul carro tricolore. Beh, lui adesso pensa all'Umbria dove si candida come presidente della regione Umbria. Insomma, quello che ha detto che io vi ho modificato per problemi editoriali e voi direte ma tu ti sottometti al politicamente corretto? Tu non pronunci alcune parole? No, non posso. Non posso. Qualche volta in qualche video mi è scappata qualche parola, in mezzo al video mi è scappata qualche parola, sono stato rimproverato. Sono stato rimproverato e mi è stato detto attenzione perché se ne dici altre chiuso. Ecco, quindi io devo stare molto ma molto attento infatti in questo video di Marco Rizzo c'erano parole molto più corrette, parole ben precise perché Marco Rizzo parla e non deve rendere conto a nessuno. Parla in un'intervista e dice quello che vuole infischiando se ne è il politicamente corretto. Io purtroppo e ve lo dico davvero con rammarico purtroppo non posso parlare come Marco Rizzo. Ho cercato di farvi questo video cercando di farvi capire il più possibile quello che realmente ha detto Marco Rizzo credo che lo abbiate capito però insomma faccio fatica io a a fare dei video dove vorrei raccontare una cosa ma ci devo girare 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 intorno. Questo è il politicamente corretto che contrasta Marco Rizzo il generale Vannacci Salvini Meloni chissà se un giorno finirà questo politicamente corretto e si potrà tornare come negli anni 80 a ridere scherzare e parlare senza troppi problemi e chiedere troppo oggi purtroppo sì poter tornare nel 1985 e andare in giro e dire tutte le cose che si vogliono senza che a nessuno importi nulla che cattivone questo professore vorrebbe tornare indietro a dire quello che vuole a essi purtroppo mi piacerebbe ma non si torna mai indietro anche se dicono che si può viaggiare nel tempo va bene arrivederci a tutti e grazie